attenzione giù 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 fermi 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 giù su 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 con le mani gira sotto braccio sotto braccio si 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 se se si 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 Advista, dicità Advista, dicità Advista Vira, imone, batirola Vira, imone, triana foldata larire Dovista, faccio! tempo con le mani sotto braccio su le gambe 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 attenzione più veloce attenzione finale 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 rimanete sintonizzati su radio canale 93 la radioattiva non spostate la frequenza né di qua né di là perché ora c'è la pubblicità pubblicità